avevamo detto che la saltava Sorrentino, già stanga, io direi che fa tornare pure Demetrio perché Ferrante fa tutte cazzate, non è così, virgola che si è spento proprio, forse si sente minasciato da Vigorelli, da un giovane, andiamo a fare l'imprevisto pre partita, problema fisico è Calla, da 1 a 11, il 5, il 5 è il terzino destro, il terzino destro, vero? Sposta, senta Francesconi, va bene, Francesconi, ventola a mano da un messaggio vuole giocare assolutamente, e ti faccio partire dal primo minuto, ventola, mi raccomando a te, faccio una sigaretta e sono subito da voi. Il match è attesissimo, il settimana non si è parlato d'altro, vedremo come si comporteranno le due squadre nel momento della verità. Pochi istanti ancora al calcio d'inizio, clima sempre più rovente, benvenuti da Piero Gipardo, con me come sempre Neri Adani, anche oggi ATV vi offre tutte le emozioni del campionato, direttamente a casa vostra, ovviamente, non cambiate canale. Spira che mette di fronte i due protagonisti del calcio mondiale. Il calcio sa regalarci sempre grandi emozioni e vale a tutte le latitudini. Speriamo sia così anche oggi. Io, come al solito, ci credo. Speriamo sia così. Speriamo sia così. non vuole rischiare Ciciretti Ciciretti bravo virgola forse è tornato virgola quanto sta Cici? 11 10 Soltana come al solito Mancini pure come al solito Demetrio deve tornare pure Demetrio deve tornare a parare valutazione 6,75 bravo virgola fatene virgola ce li mangiamo questi ragazzi questi ce li mangiamo veramente vai virgola no non è possibile che hai i piedi così non è possibile che hai tirato così c'è la Cristiana pure libera in mezzo ma questi stanno peggio da noi in difesa incorrono proprio sono finiti no guarda niente quando è così devono vincere sempre loro devono vincere sempre loro se vanno un 2 abbia sempre quell'altro che hanno difficile ragazzi che hanno difficile bravo Cristè vai Cicire che forse sei l'unico ammazzando gli ammessa Cicire ammazzando gli ammessa Cicire attento che te fai male Ficiletti ti ha imparato pure a tirare virgola prendi esempio prendi esempio virgola Armancio che va a voto bravo Romano bravissimo Ciciretti mamma mia che difesa c'ha pure il crotone mamma mia che difesa c'ha il crotone difesa bruttissima troppo alta per gli inserimenti offensivi sulle fasce soprattutto che difesa faccia e mi sembra che il crotone sia che a meno 3 da noi mamma mia comunque che difesa brutta da questi i piedi ma è Cristè manchi solo tu bravo Cri e ha il cecio i Ciciretti forse è chiusa ma è stata la trivetta i Ciciretti ti andai scherzando Tagli ho impegnato assolutamente un difensore centrale uno fammo i quattro non c'è mi sordi quello è fatto se vendessimo Giuseppucci magari c'entrerebbe qualcosa c'entrerebbe qualcosa ma allora io direi che va benissimo così virgola però 0 virgola 0 ventola e meno cielo stanno facendo bene quindi entra entrano dopo Ferrari Lombardi Sivori deve aspettare pure Sivori il tantesimo facciamo entrare bella partita bella bella niente non si viano mai bravo la voleva riaprire bravo mangio fare le stesse cose senza considerare che ancora antimargini miglioramenti Christea ha inzato coi tempi giusti qui salta il difensore Paolo Demetrio i gambi cambi si è finita Sivori Ferrari Lombardi sono finiti e Pallotta bravissimo Demetrio dai che sei tornato dai che sei tornato ma Sivori ma che cazzo fai Sivori che cosa fai Sivori niente rigorelli dorme come al solito avvo Ferrari dai hai preso attiva agli avversari e poi sfruttare gli spazi ripartenti fin qui è andato tutto bene probabilmente il tecnico ha preferito attendere perché fossero gli altri a scoprirsi per poi colpirmi in contropiede occhio al forte degli avversari che vogliono cambiare il risultato bravissimo Demetrio bravissimo Demetrio che ne era per lui siamo 4 a 4 via Ferrari bravo sei solo qui sei solo vai a fasto 5 porco 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 dici ancora 300 secondi alla fine della gara la gioca profonda avanza con il pallone cross muragolo difensore raga è finita su mamma mia mamma mia Demetrio dai è finita finalmente arrivano i 3 punti finalmente finalmente ne devo mangiare i 18 però dai 11 sono preso a pallonare ragazzi siamo il peggiore peggiore si vuole i 5.8 ma è entrato dopo Vicorelli idem e Lombardi pure Menoncello 5,7 pallotta 5,8 eh Menoncello Menoncello la salterà salterà la prossima arrivederci signori a